Finalmente siamo arrivati in vetta, ecco Federico che arriva. Sono le tre e un quarto, è già i dieci che ci aspoliamo, la neve e ma ci siamo distrutti. Chiaramente Gray non è distrutto per niente anzi, sta molto meglio di me. Il cronobusola 2829, punta chiapa, il lago battaglia, lago di Palasina. Qui dove siamo saliti noi, Valone di Palasina, Dame di Cialan, Soleron, Nery, questo grosso panettore del primo piano, il Bietteron, il triangolino nero e bianco, la Val Nera, tutta l'Alfredda e lui, il grande Federico. Dici qualcosa Fede? Mamma mia, sono morto. Come era la nera Fede? Un disastro, marcia, marcia. Ma io non gli altri. Il Cervino. E' stato veramente duro ragazzi, veramente duro. Grazie a tutti.